Adesso la pagina degli spettacoli, un progetto unico in Toscana e un grande successo di pubblico al Teatro Verdi di Firenze. L'Aida con l'Orchestra della Toscana e i figuranti coristi della città di Cortona. Alessandra Parrini. La musica per tutti, che significa? Questo è uno degli slogan dell'Orchestra della Toscana. E' la nostra missione portare la musica nella regione toscana e non solo, e avvicinare tante persone, dai bambini ai nonni, come in questo caso. Sul palcoscenico del Teatro Verdi di Firenze, i figuranti e il coro dell'Aida sono cittadini piccoli e grandi di Cortona. L'opera di Verdi è stata ridotta con una scenografia eccezionale dalla compagnia Ventilucenti per un pubblico di tutte le età, ma la musica suonata dai professori dell'Orchestra della Toscana è quella di Verdi, densa di sentimenti teneri e guerrieri, arie famosissime e personaggi leggendari. Tanto oro, tanti veli, costumi curatissimi, la scelta di rappresentare la guerra e la morte di Radamè Saida in modo indiretto, lasciando agli strumenti musicali e al canto il compito di raccontare fino in fondo. Le iniziative dell'Orchestra della Toscana per e con le scuole medie e superiori sono già programmate fino ad aprile e questo progetto Aida, promette il comune di Cortona, andrà avanti.